bentornati su my football jersey oggi vedete la prima maglia dell'arsenal per la nuova stagione la 2023 24 questa avevamo già vista in versione fan trovate qui in alto la recensione questa volta adesso la vediamo in versione player maglia strepitosa nella mia classifica questa prende 5 stelle il massimo mi piace tantissimo la rifinitura in oro e comunque la maglia dell'arsenal è una maglia che a me piace qui trovate il costo l'avete visto vero bassissimo non voglio aggiungere altro decidete voi cosa fare vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono ora vi lascio la parte finale prima però vi ricordo di iscrivervi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 chili circa quella che vedete è una taglia large della versione player